Ben trovati, il dintorno della politica di questa puntata di politica e dintorni riguarda la scuola, ospite la preside, posso dire preside? La preside Erika Picaniello, però qui in veste di segretaria CGL, segretaria scuola CGL di Avellino, giusto? Siete un po' complicati con queste sigle. Troppi titoli. No, assolutamente. Allora, il problema è il dimensionamento scolastico, lo chiamano così per non dire taglia la scuola, che poi è molto più immediato. Come stanno le cose? La domanda è preside. Certamente c'è molto di cui lamentarsi per il piano fatto dalla provincia, che poi corrisponde ai criteri fatti comunque dal governo centrale. Al di là delle giuste osservazioni che lei farà, c'è un problema di fondo. L'Ippinia ha perso troppi abitanti, c'è uno spopolamento in atto decisamente devastante. E poi ci sono le solite storie dei fondi che mancano, quando mancano oppure quando si assegnano fondi, parlo di risorse governative, su cose anziché su altre cose. Come siamo messi? Allora, intanto ha ovviamente centrato il punto. Il decremento è alla base demografico, è alla base di tutto. Però c'è anche da dire che sul decremento demografico il governo, non l'attuale governo. È una linea, diciamo, che precede l'attuale governo, precede anche Fioramonti. C'è una continuità in un progetto di far cassa sul decremento demografico. E ovviamente l'attuale dimensionamento è figlio di una legge di bilancio, la legge di bilancio di quest'anno, che individua un parametro per attribuire una titolarità giuridica a un'autonomia scolastica che è di 961 alunni. Ovviamente, diciamo, l'iter di decisioni, l'iter che ha riguardato, diciamo, il dimensionamento, un iter abbastanza consolidato. No, c'è la parte delle conferenze di servizio svolte dalla provincia e però c'è stata anche la parte degli incontri che l'assessore Fortini ha svolto nelle province. Allora, con numeri così stringenti, con numeri molto, molto, molto stringenti, per cui non c'è alcuna polemica nei confronti della provincia, che ha fatto il piano che poteva fare, le organizzazioni sindacali hanno richiesto che i criteri di compensazione fossero individuati a livello regionale per la tutela delle aree interne. Cioè, per verificare, dico meglio, per verificare la volontà politica di tutelare le aree interne. Perché, chiaramente, un piano di dimensionamento affidato alle singole province comporta come conseguenza, diciamo, una possibilità molto stretta, una possibilità molto stretta di rimodulazione. Pertanto, nel documento che abbiamo sottoscritto con la CISL è presentato... Mi perdoni se la interrompo, perché soltanto la CISL? Cioè, sindacato unitario che poi si spacca su un argomento così importante come la scuola, non è soltanto importante a chiacchiere la scuola, no? Sappiamo, no? Si filosofeggia tantissimo sull'importanza della scuola, le nuove classi dirigenti, eccetera. Poi, in concreto, perché vi siete spaccati? Sì. Allora, intanto io ho sempre rispetto per chi ha un pensiero diverso. Noi ai tavoli abbiamo, ognuno di noi ha rappresentato, diciamo, la propria posizione. Devo dire, noi fin dall'inizio abbiamo sempre detto, è necessario che la disaggregazione dei tavoli, cioè quello regionale e quello provinciale, termini, perché è necessario riportare al discorso regionale l'individuazione di criteri che tutelino le aree interne. Poi c'è da dire che nel corso dello svolgimento delle conferenze di servizio ci sono state delle consonanze maggiori e le abbiamo ovviamente sviluppate in un documento che poi è stato mandato, diciamo, al presidente della provincia, all'assessore Fortini, ma anche al direttore Acerra, al provveditore di Avellino, alle nostre segreterie regionali, perché io credo che tutte le province siano un po' in questa situazione. Certo, andiamo un po' sul concreto, no? La provincia di Avellino perde, se ricordo bene, 13 autonomie. Sì, sì. In termini pratici, che significa perdere 13 autonomie ai fini didattici, ai fini proprio della utilità scolastica? Allora, c'è da dire in premessa che molte autonomie erano in una condizione di sottodimensionamento o di dimensionamento solo per un anno. Quindi sarebbe stato comunque necessario ridisegnare la rete scolastica. Che cosa significa concretamente? Non si perdono i punti di erogazione che rimangono sul territorio. Tuttavia, però, le scuole diventano organizzazioni molto più complesse. Cioè, una organizzazione, e anche per questo, guardi, il piano forse, diciamo, è chiaramente da riattenzionare, perché ci sono scuole molto articolate sul territorio, anche con nove comuni, che sembrano una enormità. E poi c'è un problema che riguarda l'Alterpinia, cioè come dare stabilità agli istituti dell'Alterpinia, segnatamente nell'ambito Avellino III, senza creare scuole con numeri troppo alti. Perciò il criterio di compensazione. Perciò il tavolo congiunto, perché questi elementi, cioè la proposta fatta, che è sicuramente una proposta meritoria, soprattutto perché è stata portata avanti comunque con, diciamo, una competenza tecnica. Però sotto il profilo politico richiede necessariamente una revisione. Senta, De Luca ha fatto ricorso al TAR, come sappiamo, sul dimensionamento scolastico deciso dal governo. Quante possibilità concrete ci sono perché il TAR possa accogliere questo ricorso sulla base dei dati oggettivi che abbiamo? Allora, aggiungo di più, la CGL ha fatto ricorso a un pugnato, diciamo, appoggiando, ecco, la Regione, il decreto, il famoso decreto 172, 127, mi scusi, che è un atto unilaterale perché lei sa benissimo che bisognava trovare un accordo in conferenza a Stato-Regioni che non è stato trovato, da qui ne è disceso un atto unilaterale. Io non riesco ad esprimermi sulle possibilità. Di sicuro era un atto obbligato sia per la Regione che per la nostra organizzazione sindacale e per noi definisce ovviamente qual è il nostro percorso politico, però poi ci sono le scelte politiche che la Regione dovrà compiere e che dovrà compiere nel caso in cui l'esito dovesse essere negativo. Direttore, io le vorrei dire che non possiamo impiegare ancora troppo tempo perché i termini scadono a novembre, perché questo dimensionamento probabilmente avrebbe richiesto un altro ed alto livello di coinvolgimento delle comunità che invece, diciamo, non c'è stato. Ragione per la quale è arrivato il momento di guardare indipendentemente dagli esiti a quelle che sono le scelte politiche che la Regione vorrà fare e potrà fare in merito alla salvaguardia delle aree interne in generale. All'interno della Campania, se ho capito bene, la Regione potrebbe intervenire per bilanciare un po', per compensare? Se sì, in realtà non ci sono dei parametri. Perché di fatto abbiamo una penalizzazione delle aree interne? La penalizzazione delle aree interne è legata al decremento demografico necessariamente, ma è chiaro che in zone montane, che però la legge non riconosce come montane, istituti a 900 alunni sono veramente complicati da gestire. Se abbiamo istituti con 7, 8, 9 plessi, 9 comuni, consideri che ci sono almeno 3 plessi per ogni comune. Le prossime mosse della CGL e della CISI a questo punto insieme, per quanto riguarda la provincia di Avellino, sollecitare l'incontro con la Regione, con l'assessore Fortini, perché la prima cosa che dobbiamo capire è se sono applicabili diversi criteri di compensazione. In caso differente, probabilmente una riflessione maggiore su alcune scelte operate sarebbe necessaria e doverosa. Bene, dobbiamo chiudere qui. Naturalmente non possiamo che augurarci che vengano riviste nell'ambito delle possibilità oggettive che ha la Regione. La provincia non c'entra niente a questo punto, ma soprattutto che cosa si potrà fare in sede politica se la Regione riuscirà, al di là del TAR, a scuotere un po' con le coscienze e la sensibilità del Governo centrale. Grazie a Erika Piccariello per essere stata con noi e arrivederci con la prossima puntata di Politiche ed Intorni. Grazie a Erika Piccariello.